Non dire bugia a tua madre Scendi subito, devo parlarti Ascolta sempre i tuoi genitori Venite subito nel mio ufficio Non prestare il tuo libro a loro Prendiamo la strada nuova Rispetta le regole o battene Non mangiare veloce, mastica Bevi la medicina per stare bene Finiamo e meritiamoci la pausa Scrivi i tuoi dati sul modulo Non fare così quando mi parli Beviamo alla salute degli amici Togli il tuo zaino dalla sedia Queste lettere sono arrivate per posta Oggi gli studenti arrivano a centinaia Portano la merce tre volte alla settimana Claudia ha finito con il sapere Che mi sposo Guido prende la pillola tre volte al mese È meglio che passi dal centro della città I gatti sono passati tutti dalla finestra Un'idea strana gli è passata per la testa Noi entriamo in classe due alla volta Ti racconto tutto dopo per telefono Oggi vado a passeggiare al parco Sabato facciamo una cena tra amici Ho comprato delle scarpe su misura Siamo usciti dall'autostrada poco fa Scegliere Lo scelgono Che loro scelgano Loro hanno scelto Venire Lei viene Che lei venga Lei è venuta Venire Loro dicono Che loro dicano Loro hanno detto Non fare niente Voi non fate niente Che voi non facciate niente Voi non avete fatto niente Scrivere l'e-mail Tu scrivi l'e-mail Che tu scriva l'e-mail Tu hai scritto l'e-mail Lo chiedo a te Sono tra due auto Ti scrivo da lontano Sono per strada Sono di Venezia Da noi piove Vado a piedi Il libro di Maria Mi siedo su una sedia Sono in piazza Esco da casa Dormo in tenda Sono a casa Fra tre giorni Parto Ho un regalo Per te Viaggio in treno Ero con Luca Vengo da Roma Vengo da Roma Alzarsi Tutti alzi Annoiarsi Annoiarsi Lei si annoia Arrabbiarsi Lui si arrabbia Alzarsi Io mi alzo Sentirsi Sentirsi Noi ci sentiamo Divertirsi Divertirsi Voi vi divertite Lamentarsi Io mi lamento Lavarsi Loro si lavano Mettersi Mettersi Tu ti metti Preoccuparsi Lei si preoccupa Prepararsi Lui si prepara Sposarsi Sposarsi Noi ci sposiamo Sentirsi Voi vi sentite Svegliarsi Loro si svegliano Vestirsi Vestirsi Lui si veste Chiamarsi Io mi chiamo Svegliarsi Tu ti svegli Annoiarsi Noi ci annoiamo I giornali Lo studente Il libro Il giornalista L'oxilofono Gli olandesi Le camice Gli uomini Le barche I fiori Gli scherzi Le amiche Gli alberghi Le cassette Il nome Il re Il tema L'amico Lo sconto Lo sconto I castelli I cantanti I laghi L'uovo Gli inglesi I coltelli Il cesto Gli anni Lo sbaglio A lui Non piace Il sole Non lo capisco Massimo Vuole andare A Parigi A maggio Adesso Elena Una macchina Nuova A pensarci Meglio Voglio una pizza Secondo me Ha torto Ma sembra convinto Stiamo andando A mangiare fuori Melania Ha paura Di prendere L'aereo Luca Ha due cani E un gatto Molto vecchio In estate Andiamo a visitare Firenze Lei ha molte cose Da fare domattina A sentire lui Dovremmo cucinare A casa Penso che a volte Ci voglia una pausa Ho visto tua cugina Lavare la macchina Non è in casa Ha mandato un messaggio Sto guidando Sono in autostrada Lui è sempre Il migliore A calcio Queste scarpe Mi stanno piccole Ieri non eri insieme A noi A cena Quel cappello Ti sta benissimo Non disturbarmi Lasciami stare Non alzatevi State seduti Come stai? Sto bene Grazie Sto per andare al parco Tu ci vieni? Claudia è una cardiologa Secondo te ci stiamo tutti in auto? Queste scarpe Queste scarpe mi stanno male Mi raccomando State molto attenti Noi siamo arrivati Voi ci siete? I nostri figli sono molto felici In questi giorni sto un po' male Ci piace andare in discoteca il sabato Ci piacciono le vacanze con gli amici Mi piace l'Italia perché è un bel paese Non mi piacciono i concerti in piazza Le piace uscire quando non ha scuola A loro piace andare spesso al cinema Gli piace molto giocare a calcio A loro piacciono i dolcetti al limone Non ti piace molto stare a casa Non le piacciono le partite di calcio Gli piacciono le gare di automobili Ci piace molto andare in montagna La musica italiana mi piace molto Questa casa non mi piace per niente Domani parlerò di voi alla professoressa Non ho dato niente a voi ieri Sicuramente parlerò di loro al professore Non scrivo mai a loro Preferisco telefonare Forse parlerò di loro al professore No, non scrivo mai a loro Mia sorella telefona solo a lui per studiare Sì, io conosco proprio lui molto bene Ieri ho dato il tuo indirizzo anche a lei Forse esco con lei stasera Marco e Maria, quando uscirete con noi? Signori, quando telefonerete a noi? Claudia chiama solo me ogni sera Giovanni ha dato a me la sua penna Claudia ha telefonato a te, non è vero? Lui vuole che io ti chiami stasera Dottore, chiamo lei e non l'altro medico Professore, le do il mio compito domani Dove pranzate domani? Dove pranzerete domani? Da chi si fermano a dormire? Da chi si fermeranno a dormire? Con chi esce Maria stasera? Con chi uscirà Maria stasera? Quando inizia il tuo lavoro? Quando inizierà il tuo lavoro? Quando finiscono le lezioni? Quando finiranno le lezioni? Dove vai questa sera? Dove andrai questa sera? Quando venite a trovarmi? Quando verrete a trovarmi? Quante ore studiate? Quante ore studierete? 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 Grazie a tutti.